meccanica russo e vendita assistenza ai ricambi nissan la garanzia di un marchio importante riscaldatori webasto e ebespecker assistenza frigo cari e rezzanotti pedane caricatrici stazione e tachigrafi riparazione balestre impianti gpl servizio elettrauto è fondamentale controllare oreo filtri meccanica russo i tuoi veicoli in mani sicure i clienti hanno pienamente fiducia in noi meccanica russo castellamare di stabia info 081 87 12 057